Oggi abbiamo fatto una manifestazione, la prima per quanto riguarda questi eventi estivi della Proloco, Pompieropoli, è stata una bellissima giornata, una bellissima manifestazione e diciamo vi dicevo era la prima di quello che organizza quest'anno la Proloco, ne faremo un'altra il 21 di giugno sempre qui a Campora, a Coreca, sarà benvenuta estate con la presentazione del calendario estivo della Proloco, non solo la Proloco di Campora ma anche tutte le Proloco del circondario, quest'estate noi avremmo come manifestazione le nostre storiche manifestazioni, il Festival della Cipolla Rossa che quest'anno sarà composto da tre giornate, 11, 12 e 13, con il 13 la serata conclusiva, la serata clou della manifestazione, una manifestazione giunta ormai alla non edizione, molto 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 partecipata e inoltre avremo un'altra manifestazione il 19 di agosto che è la cucina contadina ricetta dimenticata che anche questa è un'altra manifestazione che ha un seguito eccezionale. Il nostro programma estivo lo chiuderemo il 24 di agosto con lo Schiuma Party e quest'anno, anche quest'anno, la Proloco sarà in vostra compagnia. Vi invitiamo a venire a Campora, a partecipare alle nostre manifestazioni e vi auguriamo una buona permanenza nella nostra località, Campora San Giovanni. Ciao! Ciao!